Sulla carta era un centro massaggi, ma in realtà si trattava di una vera e propria casa di appuntamenti, con clienti che addirittura arrivavano da altre regioni. La titolare, una donna cinese di 54 anni, è stata così denunciata, seppur in stato di irreperibilità, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. A smascherare il centro massaggi a luci rosse sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sansepolcro. I militari, infatti, sono stati insospettiti dal via vai continuo di gente dentro e fuori dalla struttura, nella quale c'era il sospetto potesse nascondersi un centro che forniva servizi extra rispetto ai massaggi annunciati all'esterno. Sono così partite le indagini. All'uscita del locale, i carabinieri hanno fermato ed ascoltato diversi clienti ed hanno avuto così la conferma del fatto che, oltre a normale massaggio, i frequentatori potevano ricevere da una massaggiatrice, una donna cinese di 54 anni, costretta a vendersi tutti i giorni, dalle 10 di mattina fino a notte fonda, ad uomini prevalentemente di età avanzata, un trattamento aggiuntivo a luci rosse, naturalmente dietro pagamento di una somma variabile dai 20 ai 50 euro a seconda della prestazione. Tutti i proventi, sia dei massaggi che dei trattamenti extra, venivano incassati esclusivamente dalla titolare. Il centro massaggi è così finito sotto sequestro. Per la titolare è scattata la denuncia.